io sono serghe gk e io è il fiche bentornati alla olie ben g cup abbiamo chiamato i 16 migliori calciatori di youtube italia divisi in otto portieri e otto attaccanti abbiamo sorteggiato le coppie che si affronteranno in un vero e proprio campionato appunti serie ma come si sfideranno le squadre dieci rigori dieci tiri e 10 uno contro uno vince chi fa più gol chi sa la coppia più forte di youtube italia scopriamo le due squadre di oggi oggi è derby allora da una parte c'era spera e basta contro messi male ciao ragazzi è subito derby perché derby perché da una parte c'è cr10 contro messi 10 pronostico di quest'oggi subito a caldo vincolo loro presentiamo gli ospiti che ci saranno in cabina di regia che siamo noi due con ema toshi ed entri allora partono i calci di rigore quindi ricordiamo è la sfida del 10 il 10 è il numero protagonista quindi 5 a testa parte cr spera contro con naghi vediamo è cristiano ornaldo quello ma raga però a parte scherzi guardate cr spera da dietro con il 10 è imbarazzante primo rigore primo errore di cr spera allora bravo lui o pirla con naghi perché gliela ha già parato una di la attenzione vediamo se si ripete colno mamma mia poi ne ha tirati tre uguali eh io vedo io vedo un dose un pochettino teso dose è in affanno Ricky sei in affanno? uuuu non ci arriva eh comunque è sempre quello l'angolo è vero è vero però quando la mette lì bene ma se non sbaglio cr spera alla r moscia si è il derby della r moscia è un po' si attenzione no no ragazzi quindi 4 su 5 per cr spera nooo faccia dose così no faccia dose così no eh vince dose li segna tutte 5 ah così? si però quello è di legica mamma mia mamma mia ma che è? oh sono i blanco sbagli incredibile ma questo è un giocatore pazzesco ma questo è un giocatore pazzesco terzo rigore a prendere in corsa eh no bravo Dile ha finito i jolly ricordiamoci che c'è anche Dile in porta eh allora Dile dice calma Dile 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 attenzione no no avanti ma perchè lui è forte vuole tirarlo più indietro e ha lasciato lo fare poverino bello non so se esultare o no nel dubbio allora siamo 4 a 3 dopo i rigori partiamo con gli shout out 5 a testa parte chi non è partito prima allora parte il signor dose bocca al lupo shout out allora parte Riccardo dose primo shout out contro Dile GK vediamo io credo molto in dose eh Dota mia sei troppo forte ma quella finca di corpo si ubriaca pure lui da solo questa ragazzi finisce forse nel nel teaser chi troppo vuole non la stringe mi hai rinato un goscio cos'era il tiro che cosa era un tir bello ci è cascato pure dose sulla finta allora in questo momento quindi ne ha fatti 2 su 3 ed è a quota 5 in totale di la CR spera ne ha fatti 4 soltanto da rigore no cos'era sta roba cos'era? è ubriaco è zona mamma ragazzi mamma mia se fosse così durante la got league i blancos sarebbero primi in classifica devastante e invece non mi fate neanche battere gli shout out è perchè li tiri io addosso a Ragnar? dicono che sono ska dose ancora la stava combinando però che giocatore ragazzi eh dose ad oggi più forte che ho visto ragazzi 4 su 5 sugli shout out per il mago del format non lo so del movimento di corpo per ora è uno dei più bravi eh però vi dirò che Ceres Piero è veramente bravo a battere i shout out vediamo un qualcosa di più eh vamo che schifo però dai abbiamo elogiato c'è anche il rigore il primo l'ha sbagliato proprio oh se l'allunga eh bravo ma esulta oh ci vuole la calma si esulta alla fine però col 10 è veramente imbarazzante no bellissimo attenzione se ne spera attenzione bravo qua col naghi miracoloso mamma mia col naghi non può entrare bravo ma dopo questa prima vittoria per voi invece nella scorsa come vi sentite? ma è un sereno brodi oggi è un altro giorno siamo tranquilli pressioni ah zero nessuna no no vediamoci l'ultimo vediamoci Ceres Spera il quinto doppio passo eh bravo colla tutti due siamo 7 a 6 per i messi male detti mandarini dopo la seconda sfida siamo sul punteggio di 7 a 6 adesso ci saranno 5 tiri da fermo fuori dalla nuletta fate fare i disperi per chi inizia per primo no 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 disperi vai Ceres Spera contro col naghi no 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 lo sbeffeggia così ovviamente ci dissociamo dalle movenze di dose allora il primo l'ha messo dentro vediamo il secondo per prima hai sbagliato inzione no zio eh non la vedo molto in forma oggi eh tre punti ha fatto meta questa la recuperiamo dopo vediamo questa va nell'altro campo guarda bravo colna mi sto lasciando di sale mi sto lasciando di sale cos'era io non l'ho visto come Ricky era totalmente forte cos'era un'anguilla attenzione fuori ragazzi 2 su 5 molto male mi aspettavo di più mi sta venendo il dubbio che non li ho segnati bene perché non è possibile che CR dopo tre cose ha fatto così pochi gol 8 ne ha fatti 5 su 5 pronostico mio dai di le che verrà prontamente smentito al primo tiro eccolo qua Riccardo dose il magnifico che è bello rilassato e si sa dove la calcia da lì secondo pallo secondo pallo apre troppo il piattone io direi non va calma calma Ricky sei correndo calma attenzione c'è non lo vedo molto in forma chissà cosa deve fare per avere tutta sta fretta Riccardo dose attenzione vado via il magnifico si colo e segni questo vai in vantaggio Ricky vai in vacanza Ricky vado 1 su 5 dopo gli ultimi tiri siamo giunti in parità adesso ci sarà un lancio dei portiere stop e tiro 5 a testa che vinca il migliore e il dose è magnifico pure se mai poi sei nei controlli ma nessuno ti fa per me se non ho più che ho vinto 5 peloni d'oro non capisco allora ricordiamo un attimo le regole perché adesso c'è la terza manche stop e tiro da fuori aria però l'assist lo fa il proprio portiere quindi col Nagy la passerà morbida a Riccardo dose vediamo bello bravo questo mi è piaciuto bel bel tiro comunque è difficilissimo da fuori non entra una da qua infatti io lo spazi tutti non penso proprio ho fatto un gol io Riccardo dose nell'RQ io ho spazi tutti ho fatto solo un gol bello è vero palo non è gol come dice il mio caro amico palo salva investimento palo investimento fuori allora dose non segna da 20 minuti perchè è è un problema eh eh qua con Nagy non l'agio eh 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 risultato noo oddio il mandarino in volo si è interrotto il digiuno di Riccardo dose sali sali è andato a giocare a rugby a Meleniano è andata attenzione morbido andrà a Dile per CR ahhhh 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 stop uuuuuh allora come primo questo stop comunque non è il più brutto di sempre perchè il fiche ha fatto un liscio questo è il terzo il più brutto di sempre questo è il terzo il più brutto di sempre si mamma mia oh ma ma non so sempre c'è ma CR Spera è arrivato eeeh mi buca le mani eccolo lì calmo calmo allora questo l'ha messi mi sento di dire sembrava un tiro messi baracoresma eh si vediamo Dile guarda che stop imbarco eh che bello stop bravo Nagy fatto Giubini al portiere eh un tiro ultimo tiro per CR Spera col Nagy eccellenza contro CR Spera una promozione eeeh frustrato qua ammettiamo che non è facile CR Spera eh raga frustrato chiederti una cosa ma CR Spera è arrivato? allora siamo 9 pari però eh quant'è 9 9? qui l'obiettivo sono le tibie di CR Spec adesso c'è eh risultato 9 a 9 si deciderà tutto forse negli 1 contro 1 che saranno 10 a testa chi parte? che bomba quattro 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 parte CR Spec contro Dose il Magnifico 1 contro 1 CR Spera contro Ricky Dose 9 pari eh Dose un pitbull guardatelo guardatelo a lancio ma chi è Gattuso? attenzione partito è la classica finta di CR Spera ma risulta una volta una volta in camera dai ma fatti le calorie che mangia Dose sono le stesse che mangia Messi secondo voi si si attenzione bravo il Magnifico però come ti sta bene il 10 dietro a lui un po' meno Dose ma come difende questo ragazzo? un qualcosa di più eh se segna ha già prenotato la sua risultanza ma stava facendo i tiktok se è stancato attenzione Dose non può passare è caduto da solo è caduto da solo cosa faccio? è tutto buono però è bravo però recupera la posizione è un giocatore pazzesco ma cos'è successo lì ragazzi? sembrava Sorrentino la Gottlieg dentro il mech portiamo dell'ossigeno a Riccardo Dose attenzione ragazzi parte Dose parte Riccardo Dose uno contro uno ho visto il ginocchio allora si è strappato si è stirato si è strappato allora a confronto dello scorso format la scorsa partita ragazzi i numeri sono veramente più bassi attenzione parte Riccardo Dose bravo Dile Dile GK c'era a dire che Dose e CRSfera almeno hanno un menisco non come Crispo si è vero ci hanno due ginocchia allora adesso a Riccardo Dose io ho già messo la X vediamo è fuori è fuori illusione illusione del gol può non può entrare un penso proprio quindi c'è almeno uno l'ho fatto ma anche dopo abbiamo la Ragnar League per pareggiare per pareggiare Riccardo il Magnifico Dose Dose bravo non hai idee Dose non hai idee non arriva più ossigeno al cervello eh ragazzi è chiuso è chiuso no 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 fa gol 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 tu hai due a scensore eh però Ricky 10 a 9 per loro sei ancora vivo cioè più o meno si parte allora parte CR bravo diciamo che è più bravo a difendere che attaccare eh oggi si Oggi si Comunque è tutto aperto Siamo 10 a 9 Però intanto due su due sbagliati C'è respect C'è respect Però bravo Bravo lui Vediamo il risultato di col naghi E qua lo voglio Inquadriamo dose che sta per vomitare Però siamo 12 a 9 Non è finita Riky prendi questo e dopo ne fai tre pareggi Attenzione Ha accelerato Dopo le critiche Per me queste sono le calorie che mangia dose Le calorie che mangia c'era spera Allora la regola cosa dice Lui deve entrare in area di rigore per tirare O può tirare anche prima? Può tirare ovunque Ok quindi tecnicamente può anche tirare da fermo Ecco il magnifico Ecco il magnifico c'è Bravo bravo Sembravi tu Ram Il centrocampista più forte dei messi male Riccardo Dose Vediamo se fa il doppio passo Uh finta di corpo Bravo Dile Allora gli ultimi tre può solo pareggiare Sì Ancora sul destro Eh direi che CR spera vince ma Ma vediamo gli ultimi due Forse una sostituzione Allora voi non lo vedete in camera Ma col Nagy sta piangendo Cioè per lui è un sogno che è finito Righi puoi arrivare a meno due Dai Ha già cambiato maglia col Nagy Niente Sviduciato La speranza è l'ultima a morire Bello Ma dovevi farli tutti così Dovevi farli Risultato finale 13 a 11 Per Sfera e Bassa Che è basta da solo Di qua Con 12 11 Messi male Sono messi veramente male In questo momento Tre punti che vanno A CR Spec di 10k Però nella differenza resi Quel gol di punta Potrebbe farla Io non l'ho persa qua Perché sapevo di non aver chiesto L'ho persa prima nei tiri Dovevo sfruttare Perché c'era troppo Tutti e altri Poi li recuperiamo i palloni Ringraziamo in cabina di regia Ema Toshi Ed Empi Ringraziamo Spera e Basta E i Messi male Noi ci vediamo Alla prossima partita E un saluto Da Oldie Benci Grazie